Questa è il furgone sul quale ha perso la vita purtroppo un ragazzo di origine nigeriane questa mattina alle 6 e mezza dopo uno schianto fatale. L'abitacolo ormai distrutto, gravissime le condizioni anche del ragazzo che pare essere un ragazzo di Andorra, un ventenne di Andorra gravemente ferito nello scontro.